signori questa sera sono davvero davvero felice e mi auguro che lo siete tutti ragazzi perché ce la meritavamo una serata così dopo le tante sofferenze di queste settimane dopo il doppio il doppio schiaffo nell'euro derby dopo insomma dopo tutto questo ce la meritavamo una bella serata e questa è una bella serata è una bella serata perché centriamo matematicamente la qualificazione alla prossima champions league grazie alla penalizzazione inflitta la juventus è sempre doveroso ricordarlo però abbiamo ancora 90 minuti abbiamo ancora 90 minuti e in questi 90 minuti io mi auguro che il milan insomma cerchi di legittimare ulteriormente questa qualificazione alla prossima champions league la juventus va a udine il milan giocherà in casa contro il verona e perché no c'è anche insomma questo ulteriore motivo di dire questa ulteriore motivazione insomma sbattere in serie b il verona sarebbe una cosa carina una cosa carina e perché no vincendo in casa contro il verona sperando un passo falso della juve a udine lo so potremmo potremmo mettere a tacere anche molte 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 voci e molte dire molte mosche che potrebbero gironzolare per tutta l'estate anche oltre quindi questo è insomma questa sarebbe una cosa molto molto importante io mi auguro che la squadra colga l'importanza di questi 90 minuti e mi auguro che li giochi al massimo al massimo è una bella serata perché abbiamo battuto la juve ragazzi e battere la juve è sempre una cosa molto gradita io insomma sento molto di più la rivalità con l'inter questa cosa l'ho sempre detta però la juve è sicuramente la seconda e insomma diciamo vincere sia all'andata che al ritorno senza subire gol sia all'andata che al ritorno insomma ragazzi è una bella è una bella soddisfazione in un'annata complicata lo so che diranno in molti e ma la juve ha avuto molti problemi la juve ha avuto un sacco di cazzi ragazzi la juve durante la nostra banteria ci ha battuto un sacco di volte quando noi avevamo un sacco di cazzi però ripeto vittorie erano quelle vittorie sono le nostre di quest'anno quindi è giusto godersene giusto godersene fino in fondo anche perché insomma che perché insomma la juve nonostante tutti i problemi nonostante tutto comunque a conti fatti è una squadra che ha fatto più o meno i nostri punti perché insomma senza penalizzare penalizzare penalizzazioni milan e juve sarebbero distanti in un solo punto quindi non era scontato non era non era scontato li abbiamo battuti e ed è bello ed è comunque molto 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 bello sono contento per oliviero oliviero che ormai è nel mio cuore in eterno un giocatore meraviglioso un uomo meraviglioso straordinario un uomo che avrò sempre è il cuore un milanista che avevo sempre è il cuore ed è un milanista che vorrei salvaguardare quindi magari di magari acquistare una punta per farlo riposare un po' durante la stagione così da non spremerlo troppo vabbè però quello è un argomento che affronteremo prossimamente e poi ragazzi ripeto sono contento perché dovevamo dare un segnale dovevamo dare un segnale a noi stessi dovevamo dare un segnale a tutti quanti e io credo che la squadra questa sera l'abbia l'abbia fatto per carità a livello di gioco non è stata una prestazione indimenticabile questo senza dubbio non è stata una partita indimenticabile nel complesso però ripeto il milan di questa stagione ormai sappiamo cos'è quindi è anche abbastanza inutile mettersi a fare i sommelier alla 37esima giornata di campionato sperando di vedere cose che in 50 partite stagionali avremmo visto sì e no due tre volte quindi stare lì a dire non abbiamo giocato bene è da un anno che non giochiamo bene ed è da un anno che abbiamo diversi problemi quindi ripeto è anche impossibile stare qui a vedere a svoltare proprio adesso ecco abbiamo vinto abbiamo giocato una partita tutto sommato solida abbiamo rischiato poco e nulla quindi prendiamoci questo perché il milan di questa stagione questo può dare questo può dare questo ha messo in campo e questo ci prendiamo io mi soffermo poi sul sulla reazione che la squadra ha avuto al fischio finale tutti ad abbracciare pioli tutti a festeggiare sul campo quindi segno che anche la squadra si è elevato un bel peso e segno che la squadra comunque è con l'allenatore per carità torto ha ragione ma questa è una cosa che non si può sottovalutare la squadra è con pioli la dirigenza secondo me ormai ha preso una linea ben precisa vero l'allenatore alla nostra fiducia cercheremo di dargli una squadra qualitativamente migliore il prossimo anno questa è la scuola e la strada che hanno preso legittima è una strada che non mi trova d'accordo perché ripeto io non non avrei confermato pioli dopo questa stagione qua pioli alle sue attenuanti perché pioli alle sue attenuanti effettivamente la rosa ha dimostrato di essere incompleta le riserve hanno dimostrato di essere di un di un livello molto molto basso anche alcuni titolari verrebbe da dire hanno dimostrato di essere di un livello molto molto basso però vedo l'involuzione il livello di gioco che c'è stata anche con i titolari a me è parsa evidente evidente già da o da o da ottobre però ripeto io sono un tifoso posso esporre le mie idee posso fare le mie critiche però alla fine la società è quella che 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 decide e la anzi la dirigenza è quella che decide la dirigenza a quanto pare ha ha deciso la squadra si è espressa questa sera direi a favore di questa decisione perché la squadra è con pioli e a questo punto ragazzi speriamo con tutto il cuore che abbiano ragione loro io mi auguro che la squadra capisca l'importanza di questa l'importanza della prossima stagione perché la prossima stagione il milan al di là del del mercato che è un argomento che affronteremo già da domani nella live del giorno dopo a proposito ci vediamo domani alle 15 qui sul canale per la live del giorno dopo al di là di questo la squadra deve capire l'importanza della prossima stagione perché il milan quest'anno ha fatto un passo indietro enorme ha fatto una grande champions una grande champions ma ha fatto diversi passi indietro sotto tanti punti di vista diversi passi indietro che hanno portato molte persone a rivalutare il negativo questa rosa e a rivalutare il negativo anche i risultati che sono stati ottenuti nelle precedenti stagioni io mi auguro che la squadra percepisca tutto questo mi auguro che la capisca che è stato messo in dubbio tutto quanto anche tutto quello che è stato costruito molto bene in questi anni visto che più di rimarrà mi auguro che anche lui percepisca tutto questo e mi auguro che l'anno prossimo il milan possa mettere in campo delle dei concetti un po diversi oltre che degli uomini un po diversi in molte come dire in molte zone del campo ci saranno dei sacrifici da fare il budget da quello che ha detto peppe di stefano questa sera sarà di 70 milioni più le cessioni il montengaggi verrà leggermente come dire aumentato grazie anche ai rinnovi di leao ben naser eccetera eccetera e ci saranno dei sacrifici io questa sera vi dico però dico io credo che de ketelare verrà ceduto ve lo dico questa sera così vi sgancio questa bomba e ma domani ne parleremo in maniera più approfondita nella live del giorno dopo io vi ringrazio per avere visto questo video vi invio un bacione grande mettete like iscrivetevi al canale e sempre forza milan ragazzi dai we are in champions league man dilly di dilly dong